Gentili amiche, gentili amici, buon pomeriggio, buon lunedì dell'angelo, buona Pasquetta. Fortunatamente oggi il tempo non è splendido come ieri e questo quindi ci aiuta perché ci fa anche un po' passare la voglia di prendere la macchina e di andare in giro a fare delle scampagnate, meglio così. Proseguiamo quindi gli incontri di avvicinamento, di formazione, alle solenne investiture di parte Guelfa del 2019-2020, continuando quello che è stato soltanto il nostro primo incontro che è avvenuto qualche settimana fa nel Palazzo Rassali del Turco, è stato un evento molto bello a cui alcuni di voi hanno già partecipato e quindi già mi conoscono, per gli altri che non mi conoscessero ancora io sono Marco Crisci e mi occupo indegnamente di coordinare le sessioni formative per gli aspiranti dame e cavalieri di parte Guelfa. L'argomento con cui proseguiamo questa serie di incontri da questo momento fino a quando sarà necessario, quindi in maniera virtuale, è un argomento molto importante che possa essere condiviso e apprezzato anche dalle persone che non avevano avuto modo di essere presenti alla prima sessione, che è un'ampia riflessione su quello che è la parte Guelfa oggi. È praticamente la registrazione della sessione conclusiva dello scorso anno, a cui presero parte oltre naturalmente al relatore principale che è il nostro capitano generale Andrea Galluzzo, presero parte oltre al sottoscritto, che non parlo naturalmente, buon per voi, anche gli altri capitani di parte Guelfa. Quindi è stato un momento molto bello, molto condiviso, che andava appunto a concludere, che sono i valori fondanti della parte Guelfa, sono le motivazioni per le quali noi siamo insieme e condividiamo un percorso, un'attività e un legame, un legame che si consoliva sempre di più nel tempo. Io vi ringrazio da attenzione, appena a seguito di questo video pubblicherò quindi il link su YouTube a cui potrete collegarvi quindi con un semplice clic a questo video, che potrete quindi rivedere, non è un video live, è residente sulla canale YouTube di parte Guelfa, quindi potrete vederlo a vostro piacimento anche successivamente alla prima visione. Vi ringrazio moltissimo, vi auguro una lunedì dell'angelo di serenità, come spero che anche la vostra Pasqua vi sia trascorsa nel migliore dei modi e con questo vi saluto con un grande abbraccio e ci rivediamo alla prossima occasione. Grazie ancora, buona serata.